La straordinaria collezione privata di Villa Meuccia Severi diventa ora una casa-museo aperta ai visitatori per due domeniche al mese. La residenza sul Colle Ardizio nel quartiere pesarese di Monte Granaro, costruita nel 1962, dal 2008 è diventata sede di una fondazione per volere della stessa capitana di industria Meuccia Severi desiderosa di tramandare alla collettività i tesori artistici custoditi dalla sua villa e dal suo parco. Dopo le prime aperture straordinarie delegate alle giornate del FAI, la villa diventa ora un luogo aperto alla città in maniera stabile a partire da domenica 5 maggio. Anche dopo la bellissima esperienza degli ultimi due anni in collaborazione con il FAI abbiamo approfittato per istituzionalizzare l'apertura di questa casa-museo anche in concomitanza con Pesaro, città della cultura 2024, quindi è un percorso del tutto naturale per quello che rappresenta la fondazione. Una bellissima collezione di opere grafiche, di dipinti, di ceramiche, di arti applicate e anche un arredo particolare che arriva da un arredo classico a un design, come possiamo vedere in alcuni ambienti vicino alla piscina. Ricordiamo che tutto questo è stato voluto e pensato da Meuccia Severi, dal disegno della casa, al disegno della piscina, alla disposizione della collezione, per cui il patrimonio è importante, non si ferma solamente al Novecento ma ci sono anche pezzi diciamo più antichi, quindi insomma è una collezione sicuramente tutta da scoprire e da conoscere in un percorso molto suggestivo veramente. All'interno e all'esterno della villa il visitatore potrà apprezzare la magnificenza di una ricchissima collezione di opere pittoriche, scultore e grafiche che hanno segnato la storia del Novecento in un rimbalzo di stili ed avanguardie che vanno dall'impressionismo al surrealismo. Fin dalla prima apertura, due anni fa, che abbiamo realizzato come delegazione FAI in occasione delle giornate di primavera abbiamo avuto un successo enorme. Tantissime persone, oltre mille, quasi duemila, addirittura file fuori che abbiamo dovuto registrare per poter offrire una seconda apertura perché ci dispiaceva vedere tante persone in fila che non potevano poi entrare. Quindi l'abbiamo riaperta nelle giornate FAI di autunno lo scorso anno e si è manifestato lo stesso interesse. Ma la cosa più particolare è quella che le delegazioni o i gruppi di visitatori che vengono a Pesaro in occasione della Capitale della Cultura ci chiedono espressamente di poter vedere Villa Severi. Sarà una doppia apertura mensile, la prima e la terza domenica del mese. La terza domenica del mese l'apertura sarà collocata all'interno delle aperture museali della città di Pesaro in collaborazione con il FAI, mentre la prima domenica del mese sarà gestita in autonomia dalla Fondazione. Saranno aperture mattutine, dalle 10 alle 13. Ecco, super notazione perché ovviamente non nascendo questa come una struttura museale vera e propria, ricordiamoci che è di fatto una residenza privata, non sarebbe stato possibile gestire degli afflussi incontrollati, ecco, tanto per capirci. Per cui ci saranno degli ingressi, tre ingressi ogni volta, super notazione indicativamente per 15-20 persone ad ogni ingresso.